Il possesso per Roberto Carlos, sventa qui la minaccia, ripartono in campo aperto, sfuma il contropiede, buono il recupero difensivo, occhi adaci, Sir Kenny Douglas, attenzione perché è pericoloso, posizione ideale, tiro murato, lo vede? Palla per Douglas, è in buona posizione, tutto inutile, tutto fermo, si è alzata la bandierina dell'assistente, eh sì, di poco, ma era fuorigioco, azione fermata per un fuorigioco millimetrico, poteva andare in porta, con la Sinaz, Rashford, uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori, Stefano che ne pensi, potrebbero essere loro a deciderla oggi? Ma perché no? Sono due giocatori di talento su cui punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio, vedremo come sfrutteranno questa punizione. Ha provato sempre per il portiere, per poco non ci riusciva. Conclusione terminata non lontano dai pali. Contrasto pulito, pallone in out. Rijkaard riconquista il possesso. Candy Douglas, pallone profondo di Douglas. Ha spazio per andare. Ha evitato un possibile gol. Rashford. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Pepe. A metri per andare. Occhio. E il pallone entra. Ed è gol. La messa Douglas. Una rete che conferma le straordinarie doti da bomber di questo fuoriclasse senza tempo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. A spazio lungo l'out. Ottimo intervento di Roberto Carlos. Occhio a Roberto Carlos. Di a B. Mbappé. Mbappé. Si continua. C'è un vantaggio. Douglas. Impeccabile lettura difensiva. Rijkaard recupera palla. Tiro il respinto. Ecco Roberto Carlos. Può colpire da lì. Vediamo cosa inventa ora. Non può sbagliare. Parata straordinaria. Come un gol. Colasinaz. Rashford. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Mbappé. Si aprono spazi invitanti. Lo supera benissimo. Kelly Douglas. Tiro il respinto ma la palla è ancora in gioco. Ottimo recupero della trequarte avversaria. Attenzione perché è pericoloso. Assaggio così così questo. Rashford. Occhio a Crespo. Posizione ideale. Crespo prova. Cicuro. Il trappetto del portiere che va in presa. Rijkaard recupera palla. Pallone interessante. Douglas. Va bene la sfortuna ma qui forse vodeva fare meglio Stefano. E' quando si pensa a calciare solo con la forza. E qui ci vuole anche precisione. Fabinho. Con la Sinaz. Occhio a Crespo. Rashford. Intervento rubido ma corretto. Mbappé. Rijkaard riconquista il possesso. Circa con questa palla e punta la porta. Occhio al ribalzo. Con la Sinaz. I tifosi scatenati dopo lo scampato pericolo hanno rimediato a un loro errore che poteva costargli un altro gol. Con la Sinaz. Diabì. Palla consegnata agli avversari. Occhio a Daci. Buona qui la lettura del difensore. Regalano palla agli avversari. Bruno Fernandes. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. E' arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse Pier. Distanza notevole. Potrebbe anche provarci da lì. Stiamo a vedere. Intervento sicuro. Una buona punizione. Ci saranno da recuperare in due minuti. Morra. Rijkaard riconquienza il possesso. Non vede. Pallone gestito male. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1 a 0. Primo tempo incoraggiante. Il suo ha giocato su livelli interessanti. La sua squadra è andata a riportare. Tutto pronto. Si parte con il secondo tempo. Ecco Asi. Ancora un passaggio perfetto. Bappé. Occhio al tiro. Con così le burata. E' in buona posizione. Bappé. La parata. Gran tiro e grande risposta. Ndidi. Colasinaz. Rashford. Bruno Fernandes. Tacco robusto. Rijkaard riconquienza il possesso. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Cross in mezzo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. E' ancora presto però per cantare vittoria. E' si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare. Devono fare attenzione a non subirne altre impresanze. Non facile per quanto si è visto finora. Match che riprende. Ha rallungato portandosi sul 2 a 0. Recupera bene il pallone. Si aprono spazi invitanti. Douglas. Azione da seguire. Chiamì. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale. Contropiede perfetto. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere. Un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Un grande controllo. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Fabinho. Bruno Fernandes. Rashford. Asi recupera il pallone. Può correre lungo la fascia. Può cercare il cross. Ottimo intervento del difensore che la mette in corner. Occhio al cross in mezzo. Attenzione perché è pericoloso. Recupera la palla intercettando bene il pallone. Riconquista il pallone. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Rashford. Occhio al contropiede. Montikitaka quest'oggi. Fin qui. Rashford. A metri per andare. Gol giunto al termine del contropiede. Perfetto. Avevano l'occasione per colpire in contropiede. Non l'hanno sprecata. Eh mamma mia Pierre. Guarda ci sono gol e gol ma questo è sicuramente uno tra i più belli che abbiamo visto questa stagione. Mamma mia cosa ho visto. Lucidità. Freddezza. Lunga cavalcata per battere il portiere. Fisico. Tecnica. Spettacolo. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Rijkaard riconquista il possesso. Sergio Ramos. Occhio cerca l'area di rigore. Balla in rete. Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente sicurezza alla ripresa. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Regalano palla agli avversari. A metri per correre sulla corsia. Bernard. Può metterla dentro. Palla che rimane ancora lì pericolo. Mbappé. Sir Kenny Douglas. Toglisch. Prova Toglisch. Si tuffa. E sventa il gol. I tifosi cominciano a spazio in t... C'è l'intervento di pugno. Rashford. Abitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di posizione. Bruno Fernandes. Si affidano la fitta rete di passaggi. Bruno Fernandes. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. C'è il recupero di Aci. Gran palla di Douglas. Palla buona per Mbappé. Chiri a Mbappé. Eccolo il gol. Vede la porta come pochi. La piazzata con precisione assoluta. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Bruno Fernandes. Pallone invitante. Pepe. Si accentra. Recupera palla intercettando bene il pallone. Douglas. Fabinho. Bruno Fernandes. Fermato. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Keane. Bernard. Fabinho. Rashford. Cerca l'imbucata per il compagno. E il pallone entra. Hanno accorciato le distanze. Dimostrano carattere e orgoglio nonostante un risultato negativo. Un grande gol. Conclusione ravvicinata. Non lascia scampo. Non risultano, ovviamente. È comunque una piccola soddisfazione per i loro tifosi. Le squadre vere non mollano mai, anche quando sanno già di avere perso. Non risultano, ovviamente. 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 Rete che porta il risultato sul 5 a 2 è arrivato un gol che dà un po' di morale ma non cambia la storia di questa partita dovrebbero giocare in maniera perfetta e sperare in un drastico caldo degli avversari per avere qualche chance di rimonta palla che torna in possesso può colpire da lì e c'è il gol modo ideale per festeggiare una vittoria netta questo gol torna la splendida prestazione di tutta la squadra non hanno mostrato alcuna pietà oggi per la squadra avversaria meno male che il match sta per finire altrimenti ho l'impressione che ne avrebbero fatti altri siamo nelle fasi finali della gara le cose non si sono messe bene per loro occhio a Crespo Rui Costa recupera il pallone c'è la segnalazione saranno 3 i minuti di recupero a una mostra da lavagna e secondo gli allenatori Pier ci possono stare questi 3 minuti io andrei da Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine è iniziato il conto alla rovescia manca un solo giro di lancetta al novantesimo occasione grande parata che riflesso palla messa in mezzo la mette in mezzo non bene qui il difensore attenzione non c'è più tempo arbitro che manda le squadre e gli sfogliatori